Rinviata in A2 la gara tra SIE Cortone e Taranto in A3 e Labba Pineto conquista l'undicesima meraviglia, liquidando senza affanni la malcapitata Roma 3-0, 17-16-14 parziali, Cattano e Soci in testa in condominio col Grotta Azzolina, ma soprattutto altro record, 11 vittorie consecutive, 33 punti su 33 e 33 pure i 7 vinti appena 3 persi, commenti? Nessuno, logicamente. In B altro rinvio, per il cattivo tempo niente big match tra Alba e Macerata, mentre nel girone I arriva il primo tondo successo della Virtus Paglieta che liquida con un secco 3-0 l'Andria, in B1 femminile causa Covid salta il derby tra Chieti Altino, in B2 l'altro derby tra Impianti Futura e Gada Pescara 3 porta la firma tonda 3-0 delle Terramane, ancora un colpaccio della Rabona che abbatte nelle immagini anche il fermo e sale, sia pure in coabitazione, in cima alla graduatoria con 10 punti in 4 gare. Grazie a tutti.